Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ragazzi nuovo videovlog, ci troviamo all'interno del parco del fiume Adda, questo parco meraviglioso che ha questa passeggiata che costeggia tutto il fiume, lunghissima, quindi spettacolare l'ambiente naturale in cui ci troviamo, poi ovviamente tutto questo ripreso con Insta360 One Air con modulo con sensore da un pollice e lenti leica quindi qualità super per questa action cam che secondo me è la numero uno delle action cam e poi vogliamo con Mavic A2, questo location che secondo me è stupenda perché il fiume Adda è davvero molto molto interessante dal punto di vista naturalistico e poi c'è questo traghetto leonardiano che da una vita perché fin da quando ero piccolo io che venivo con i miei genitori che fa l'attraversata da sponda a sponda senza utilizzare nessun motore né elettrico né a scoppio, praticamente sfrutta la corrente, un cavo d'acciaio che lo tiene guidato e attraversa la sponda da parte a parte portando moto, bici, persone, macchine perché addirittura anche le macchine da una parte all'altra nel fiume Adda, quindi adesso ragazzi immergiamoci in questa meravigliosa location che è il parco naturale del fiume Adda Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti